La mia location del cuore del Lazio è Colleoppio, perché dal Colleoppio si vede benissimo il modo maestoso, il Colosseo, quindi simbolo di Roma e soprattutto scorgendo tutti i fori imperiali che è una vista stupenda per qua. Un saluto in modo particolare alla Roma Lazio Film Foundation che vi ringrazio moltissimo. Andate al cinema, perché oggi il cinema è importantissimo, non solo perché è un momento di riflessione importante, ma è catalizzatore e canalizzatore di un sacco di messaggi importantissimi e deve essere soprattutto visto, andate al cinema.